www.marizopoli.it, interessante ricerca che vi allego il link, si chiama MF Investment Management Massachusetts, sono sempre sigle, Financial Service, fondata nel 1924, festeggia i 100 anni. È una delle più antiche società di gestione patrimoniale al mondo ed è stata accreditata come la pioniera nei fondi di investimento. Ci darà questa ricerca sul passaggio di patrimoni familiari tra generazioni e in questo fa un focus sui millennial. I millennial sono nati tra i primi anni 80 e la metà degli anni 90, sono circa 10 milioni in Italia e sono il 17% degli italiani. Quindi entreranno in possesso del patrimonio familiare per passaggio generazionale, chiamiamolo così, e però loro dichiarano che l'80% di loro ha poca fiducia nelle proprie capacità di affrontare i problemi finanziari. La consulenza finanziaria e patrimoniale serve proprio a questo, a dare fiducia e gestire i propri patrimoni. Alla prossima e buona lettura!